Ancora oggi essere donna significa crescere imparando ad ignorare i fischi per strada, a sopportare occhiate invasive, a nascondere le opinioni per paura di essere giudicata troppo audace. Ancora oggi agli uomini viene insegnato ad essere dominanti, a dimostrare la propria forza e nascondere le fragilità. Un'educazione che ha portato ad avere oltre 100 vittime di femminicidio all'anno in Italia. Basta con questa catena di violenza e sopraffazione, è tempo di riscrivere le regole, di spezzare il silenzio, di abbracciare una nuova visione di relazioni basate sul rispetto reciproco. A te, donna che soffri in silenzio, a te che nascondi il dolore dietro a un sorriso, sappi che sei preziosa, meriti amore, rispetto e una vita libera dalla violenza. È tempo di alzare la voce, di rompere il silenzio. Ogni passo verso la libertà è un atto di coraggio. Non avere paura, non sei sola. I centri antiviolenza del Comune di Napoli, troverai una mano amica, un ascolto sincero, un supporto. Fai sentire la tua voce. La libertà e il cambiamento iniziano con il coraggio di parlare e chiedere aiuto. Io lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle varie opportunità del Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo un consiglio. Fai sentire la tua voce. Chiama il 1522 o scrivici in chat. Chiama il 1522 o scrivici in chat. Chiama il 1522 o scrivici in chat.